Il respiro è il primo dono della vita. Quel soffio che ci accomuna, uguale per chiunque e dovunque, senza differenze. Se anche tu sei tornato a respirare, aiuta chi vorrebbe farlo. Fai squadra. Dona plasma iperimune. Se hai contratto il Covid da quest'estate in poi e sei guarito, contatta la sede Avis del tuo comune. E aiuta anche tu a donare speranza e vita a tutti i malati di Covid della nostra provincia e di tutta la regione Marche. Dona plasma iperimune.